The Founder è il film che racconta la storia della nascita di McDonald's. Nel film l'attore Michael Keaton interpreta la figura di Ray Kroc, l'uomo che ha fondato un impero su un hamburger. Che tu sia un fan o meno di McDonald's, che tu ne apprezzi o meno il menù, ti consiglio di vedere il film se sei curioso di capire le origini del fast food più importante al mondo. E' anche un ottimo esempio di cosa voglia dire perseveranza. Nel film tante sono le scene che meritano una profondita analisi. Ma a mio modo di vedere la scena in cui Ray Kroc incontra in bagno uno dei due fratelli McDonald's, Dick in particolare, dopo che hanno appena siglato l'accordo in cui i due fratelli cedono il nome, il marchio a Kroc, è secondo me la scena più importante. E' la scena veramente fondamentale del film. Se non l'hai vista, se magari l'hai vista e non te la ricordi, te la ripropongo qui. Ti voglio chiedere solo una cosa, una cosa che non ho mai capito. Va bene. Il primo giorno hai visitato il locale. Ah, mi ricordo. Ti abbiamo mostrato tutto. L'intero sistema, i segreti, siamo stati un libro aperto. Perché non l'hai semplicemente... Rubate, potevo rubare le vostre idee e avviare una mia attività usando la stessa roba e avrebbe fallito. Come lo sai? Sono l'unico a cui avete mostrato la cucina. Chissà quanta gente avete invitato lì dentro. E allora? E quanti hanno avuto successo? Molti hanno aperto un ristorante. Grande come McDonald's? McDonald's è certo che no. Nessuno ci è riuscito, nessuno ci riuscirà perché a tutti manca quell'unica cosa che rende McDonald's speciale. Ovvero? Nemmeno tu sai cosa sia. Illuminami. Non è solo il sistema, Dick. È il nome. Quel glorioso nome, McDonald's. Diventa qualsiasi cosa tu voglia che diventi. È sconfinato, non ha limiti. E sa di... Sa di... Sa di America. In confronto a croc, che a crocco andiamo a scrocco. Tu mangeresti in un posto che si chiama croc. Croc ha quel suono slavo, lapidario. Croc. Ma McDonald's, diamine, ha la bellezza. Sì. Chi si chiama McDonald's non sarà mai maltrattato da nessuno. Perché ho deciso di parlarti di questo? Come sai mi occupo dello sviluppo del brand Remax. Sono un expansion manager. E mi ritrovo spesso nelle parole di Ray Croc di questa scena. Mi spiego meglio. In questi anni molte persone a cui ho spiegato il modello organizzativo Remax, a cui ho aperto il mondo Remax, proprio come fecero i fratelli McDonald's aprendo la loro cucina a molte persone, hanno apprezzato il sistema, ma hanno tentato di riprodurlo. Stanno tentando, hanno tentato di riprodurre il nostro sistema organizzativo. Dopo averlo conosciuto e apprezzato, hanno voluto utilizzare il nostro sistema, pur mantenendo la loro insegna, il loro nome. Sono troppo legati al loro nome. Il punto chiave è proprio qui. Come dice Croc, non è solo il sistema. Come per McDonald's, anche Remax funziona, grazie a quel glorioso nome. Remax è grande, diventa qualsiasi cosa tu voglia che diventi. È sconfinato, non ha limiti. Come per McDonald's, Remax è conosciuto in tutto il mondo, come un gruppo forte, professionale e vincente. Come ti dicevo, molte persone a cui ho aperto il mondo Remax, hanno provato a copiarlo, ma come per coloro che hanno tentato di copiare il McDonald's, non ci sono riusciti. Molti, nonostante avessero apprezzato il nostro sistema, il nostro modello di business, non hanno deciso di entrare a far parte di Remax perché avevano troppo paura di cambiare il nome. Avevano paura che i propri clienti, i propri agenti, non li avrebbero seguiti. Chi invece ha sposato la filosofia Remax ha dato una svolta alla sua carriera e non se ne pente. Penso per esempio a Luca Bertolotti e Andrea Sabatino, i titolari dell'agenzia Bertolotti Immobiliare, a Collecchio e Medesano. Sono entrati in Remax, hanno cambiato il proprio nome. Ora si chiamano Remax Plan e hanno triplicato la loro struttura. Oppure penso ad Alessandro Mista, a Luca Zani, i titolari dell'agenzia immobiliare Intermedia di Castiglione e Stiviere. sono entrati in Remax, avevano una struttura composta da 11 persone. Hanno mantenuto il loro nome Intermedia abbinando la Remax. Si chiamano ora Remax Intermedia. Ora hanno una struttura composta da più di 100 persone in quattro agenzie. Come vedi, cambiando la loro struttura, unendosi al marchio Remax, hanno dato una svolta alla loro impresa. Io sono qui per questo. Io sono qui per spiegarti il modello organizzativo Remax e per trovare una soluzione migliore per te. Quindi se anche tu vuoi sognare in grande, se vuoi dare una svolta alla tua carriera, alla tua struttura imprenditoriale, se vuoi diventare il centro di mediazione più grande, produttivo e professionale nella tua città, contattami privatamente.